le cose nuove io dai dai camminati dai andrà camminata avanti ragazzetta dai statica dai camminate dai pronti piano piano io non lo so se abbandonato no, soltanto no dovrà abbandonare soltanto che si prega abbandonato guarda che ti usi in giro no? io ti metto la vostra vedere lui invece qua ti fa abbandonato guarda che è tanto il pallone guarda che è finita come se non è finita non è così quando io andavo a fare qui andavo a fare qui andavo a fare qui andavo a fare qui andavo a vedere qui andavo a vedere mi ricordo che una volta fatto passare non so se più avanti qua dove una volta c'era mi sembra una volta c'era il comune ma sopra qua non c'è il comune c'era c'è ancora qua non mi hai detto che una volta c'era un comune abbandonato forse ero un'altra parte una volta in passato mi aveva detto che avanti che vicino c'era il comune di una volta adesso abbandonato c'è spruccio non c'è spruccio non c'è spruccio non c'è spruccio io non c'era un pelle a guarda lì è un amore non c'è spruccio non c'è spruccio Grazie. 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 Sì, è una casa. ehi prendi santa maria dopo l'hai fatto santa maria ma la facciata è davanti è un marito siamo qua come a vittorio sta arrivando sta arrivando con la vittoria sì No, 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 no. No, no, no. No, no, no.